Poiché è provato che in questo verso della vita si vede correre la corrente elettrica e spostarsi le masse materiali, che sono inverse nel verso alle masse antimateriali e alla componente magnetica, questo mio movimento da questo punto di presente alla morte, visto nel modo elettrico e materiale, è la prova di essere la percezione relativa alla dinamica in atto nel senso inverso, magnetico e antimateriale, che dalla pienezza della mia vita nel momento della morte ha riportato indietro, fino al mio punto di presente, l'aspetto del mio alter interego, magnetico e antimateriale, visto però ora nel verso opposto, elettrico e materiale, ritornare alla morte. Quindi è questo stesso mio moto attuale verso la morte la prova di essere già resuscitato nel verso opposto dalla morte, ritornando fino a questo punto attuale di presente.